Ehi, ragazzi, ciao ragazzi, siamo tornati. Oggi è un nuovo video, io vi ho fatto... perché chi si ricorda i due video che abbiamo fatto su trova a non vomitare, se non vi ricordate qui c'è un breve recap. No, 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 no. No, dai, aspetta, no, no, aspetta. No, 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 no. � Quale?! No no dai! Oh no no! OH NO 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 YOUR mention Non ho già visto una cosa... Guarda dai! τεNメ V'ェ% discovery Adesso si vede.. Adesso è arrivato al buco Guarda la cratucca Non mi sto sentin male oh! Oddio guarda sei smembrato No, ma David, devi stare zitto Perciò, avete visto? E come vedete, lui è quello che è più... Cioè, non sopporta queste cose E io invece mi taglio, perché queste cose non mi fanno più niente senso Non è tanto, cioè, rigore pure pure sti cazzi Però, se io vedo gente che si, diciamo, mattarella il cazzo Oppure gente che si caga in bocca, mi fa un po' schifo Penolimpics, assolutamente Ah, c'è Penolimpics 2 Già l'abbiamo visto Eh, ma c'è Penolimpics 2 L'abbiamo visto l'altra volta, tutti e due Vabbè, lo rivediamo No, cazzo Vedi altri video e va a far culo Allora, non lo so Io direi, qua ci sono le categorie Ci sta Electroluxion, che sarebbe tipo gente che prende, cioè, che prende elettricità Cioè, il suicidio, la tortura Vabbè, io omicidi Dai, mettiamo un Penolimpics, lasciate No, no, non metto in culo Non c'è un visto, non me giro Allora, ragazzi, ci va su Penolimpics Olimpics Penolimpics 3, è uscito Ah, vabbè, allora c'è Oh, oh, devi, devi, devi pure esiste No, no, oh Oh, vai, vai Vai, guarda, oddio Oddio No, sei malato Oh mio Dio, oddio No, vabbè, questo no No, no, porco Si è messo una micetta dentro il cazzo e l'ha fatta esplode Oddio Oddio Mi sento svenire Oddio Oddio, ora se lo sta sfiletta tutto Lei vi sta cazzone Senza audio, per favore Oh, 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 guarda qua L'ape Oddio, si è fatto, si è fatto punge da nave No, vabbè, ma che sì Questo si è operato Si è operato Oh, no, 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 dai Guarda questo spara piombini Oh, è una fiamma Cioè sei stata fe... Fatta la pippa Eh, ma che cazzo Oddio, no, vabbè, ma dai Ma che cosa no Non stanno facendo Sì, però No, laffanculo per cosa Che cazzo fai, ragazzo, coso Mio Dio Oddio mio Dai, respira e continuiamo dobbiamo finirlo, mancano poco manca un minuto, dai no, io sto a guardare dai, devi resistere ma è la massa immagine però vai, manda avanti vai, guarda, manda avanti che cazzo stanno a fare, no, vabbè oh, Dio, l'ha appeso per il coso le palle, ma che oh, i fungilioni, oh mio Dio oh, se ne è schiacciato tutto guarda che poco no, 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 no uno si è inchiodato una palla, regà si è inchiodato una palla si è inchiodato una palla se l'è inchiodata oh mio Dio ti giuro che era nettamente dentro il chiodo sì, no, ma vi sto appena fatto così c'ho i brividi fermo vai devi di più vicino però eh, ho, ho, ho paura poco, capito, avvicinami beh, è finito, mancano venticin, venti secondi dai ma che cazzo guarda quanto c'era aperta ma è pesa come un, un coso come i, 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 i prosciutti finito ok ok, questo è andato, e peno olympics 3 l'abbiamo visto c'hai un 4? no, vaffanculo non me ne vaffanculo proprio di quelle cose, e automaticamente mi è proprio, leva sto coso per favore, ah, 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 mi sono fatto male, io cazzo, pensa che sul piede fa ancora più male, non fa il culo, oh, lei, oh, il culo è di brucio, lo posso bruciare, è proprio quello, perché in quel video c'è uno che fa così, poi fa, e lo spacca proprio tutto, ma che cazzo che dice il cervello, ma perché, perché devi fare una cosa del genere, perché sono malati, comunque ragazzi, se questo video mi è piaciuto, lasciamo 10.000 like, 10.000 sì che lo rifacciamo, perché ogni volta che facciamo quel video, lui alla fine del video dice, non lo facciamo, poi lo facciamo sempre, è me obbliga, esatto, perché, e però voi qua sotto, se dovete consigliarci cosa vede la prossima volta, perché i Pain Olympics sono finiti purtroppo, a meno che non ne esca uno nel frattempo, certo, fa una cadenza di nano, quindi non uscirà un altro, voi direce qua sotto i video, tipo Pain Olympics appunto, e niente, da grazie è tutto, noi ci becchiamo al prossimo video, bella.